160 anni in cui la polizia ha avuto la capacità di camminare al passo con i tempi, con coraggio, perché non sempre è facile essere determinati e proseguire sulla strada della legalità senza accettare compromessi e accettando tutte le sfide che il mondo in continua evoluzione e cambiamento ci manda. Ci siamo innovati, siamo stati al passo con la tecnologia, adottando sempre strumenti all'avanguardia. Grande partecipazione oggi a Teramo alla cerimonia per il 160esimo anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Presenti associazioni combattentistiche e d'arma, sindaci del territorio teramano, gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, autorità locali e provinciali, cittadini. La prevenzione la polizia non la fa solamente su strada con la divisa e facendosi vedere dalle persone, ma cercando appunto di trasmettere nei giovani il valore della legalità che è l'unico che fa il rispetto delle regole, come dicevano i bambini, il sistema di allarme per tenere a freno quelle emozioni anche negative che purtroppo ci sono nell'uomo. E noi vorremmo che i ragazzi e i bambini riescono a tamponare queste emozioni, rispettando le regole per un mondo che sia più giusto, rispettoso della dignità di tutti. Durante la festa sono stati premiati i poliziotti, distintisi in particolare operazioni di servizio e sono stati consegnati i premi offerti come sempre dall'Associazione Industriale di Teramo ai vincitori del concorso, tutti liberi, nessun escluso, nel rispetto delle regole. Sous-titrage ST' 501